Parte qualche anno fa dall'approvazione del piano regolatore dove abbiamo previsto un rafforzamento, un potenziamento della cantina sociale di Morciola, oggi Pisaurum, che è un punto vendita di un buon vino e da diversi dibattiti nella fiera dell'agricoltura nella zona industriale di Talacchio. Quindi è una cosa che viene da 3-4 anni fa, 4-5 anni fa. L'idea qual è? L'idea è un'idea di fare un polo di ricerca scientifica sull'agroalimentare, su che cosa si mangia, sulla diversificazione delle produzioni agricole in questa vallata di quasi 200.000 abitanti che va da Pesa, Belfort, Alisauro. sull'idea di avere nelle Marche, in collaborazione con l'Università di Urbino, con la Regione, l'Assessorato all'Agricoltura, con delle banche che si sono offerte ad essere partner nostri, con il Consorzio di Bonifica che si è offerto a fare la progettazione, che è uno strumento della Regione, per fare in modo che ci sia un check-up su tutti i prodotti che vanno sulle nostre tavole. Prodotti di qualità, ridurre l'inquinamento atmosferico, valutare attentamente la qualità dell'acqua. Ecco, posso dirvi in anteprima che ho avuto una lunga chiacchierata anche col nuovo rettore dell'Università di Urbino. C'è disponibilità da parte dell'Università a costruire un progetto sui fondi europei, utilizzando questa opportunità e far diventare un luogo di formazione dei produttori agricoli, di un punto di vendita dei prodotti, diciamo, con una vendita diretta da parte delle imprese e insieme all'impresa, che è un'impresa cooperativa, la proprietà della Cantina Sociale, concorrere a questa opportunità dei fondi europei per avere a Morciola, in questo luogo, diciamo, una prospettiva futura molto più forte di quanto è oggi, che è un punto vendita pisarum della storia della Cantina Sociale di Morciola, che aveva nella punta più alta oltre 400 soci. Quindi per noi è un'opportunità alle imprese, un rapporto attraverso l'Università della tutela della salute dei consumatori, perché è chiaro che il monitoraggio sull'inquinamento atmosferico e sull'acqua è per noi molto importante, quindi diciamo che può venire fuori una cosa molto importante per la vallata, tutta la vallata del Foglia, e perché no, anche per l'intera regione Marche. Anche perché comunque è un progetto tutto locale, appunto, Valefoglia e l'Università di Urbino, che può coinvolgere giovani studenti, ma anche offrire posti di lavoro. Ma è un'opportunità, intanto per la tutela della salute, quindi noi probabilmente affideremo all'Università di Urbino un monitoraggio continuo, costante, della qualità dell'aria, della qualità dell'acqua e della qualità dei prodotti enogastronomici che vanno sulle nostre tavole a tutela della salute. È un'opportunità anche di lavoro, perché è un progetto che potrebbe creare anche diversi posti di lavoro, soprattutto per le nuove generazioni. Formare le imprese agricole, soprattutto i giovani, e c'è un ritorno anche di giovani in agricoltura. Allora, fare crescere il reddito in agricoltura, perché uno va a stare, va a stare nei fondi agricoli, se sta bene, vive in campagna, e se ha reddito soprattutto, quindi è importante anche poter aumentare il reddito per i produttori agricoli. Grazie.